Una terza dose di vaccino contro la meningite di tipo C tra i 6-9 anni, l'offerta attiva del vaccino alle comunità individuate come più a rischio dall'indagine dell'Agenzia regionale di sanità, apposite campagne di vaccinazione da condurre nelle scuole, la proroga al 30 giugno 2017 della campagna straordinaria di vaccinazione contro il meningococco C. Queste le nuove misure per contrastare la diffusione dell'infezione da meningococco C introdotte dalla delibera approvata dalla giunta regionale. Le nuove misure sono state presentate dall'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi, sono stati presentati anche i risultati dalle indagini condotte dall'Agenzia regionale di sanità sui casi, sui portatori sani. A partire dal 2015, ha detto l'assessore Saccardi, la Toscana è stata interessata da un significativo aumento dei casi di meningococco. Non possiamo definirla un'emergenza ma comunque una situazione che ha richiesto misure straordinarie come la campagna di vaccinazione avviata dalla regione fin dall'aprile 2015. Ora abbiamo ritenuto opportuno, prosegue la Saccardi, inserire queste nuove misure per proteggere i bambini, i ragazzi in particolare e comunque tutta la comunità. Il vaccino, ha detta dell'assessore, resta l'unica misura efficace per contrastare la diffusione del batterio del meningococco C. In alcuni casi l'infezione ha colpito bambini o adulti già vaccinati con una dose di vaccino, da qui la decisione di adeguare la nostra strategia vaccinale alla peculiarità della situazione toscana. Per questo c'è la modifica del calendario vaccinale regionale. Viene introdotta un'ulteriore dose di vaccino nella fascia pediatrica, anche in considerazione della possibile caduta dell'immunità indotta dal vaccino dopo alcuni anni e dalla somministrazione. La prima dose dunque verrà somministrata dopo il compimento dell'anno di età dal tredicesimo al quindicesimo mese, con un vaccino coniugato monovalente C. La seconda, dai sei anni compiuti fino ai nove anni non compiuti, con vaccino coniugato monovalente C. La terza dose ha 13 anni compiuti. Dall'inizio del 2015 ad oggi in Toscana sono 59 i casi di meningite da meningococco C, 31 nel 2015, 28 nel 2016.